Noi qui stasera siamo chiaramente per un atto di protesta nei confronti delle tesi che il professor Barbero porta in questo libro che ha ultimamente scritto e nel quale cerca di ridurre un pochettino tutta la faccenda a 4-5 persone o poche decine di soldati del Regno delle Due Sicilie. In realtà noi abbiamo dati che ci dicono che erano circa 40.000 soldati detenuti nelle carceri delle Alpi di cui Fenestrella è solo una delle tante. In realtà il professor Barbero scrive quello che scrive facendo leva su un pacchetto documentale che è inferiore al 5% di tutti i dati di archivio che sono presenti sul tema e questo non è una cosa bella soprattutto per la verità storica. È possibile documentare queste percentuali? Le percentuali di documento è che ci sono tutti gli archivi di Napoli, di Roma, anche dell'estero. Il professor Barbero ha attinto esclusivamente ad alcuni faldoni presenti nell'archivio di Stato di Torino e quindi è assolutamente parziale. Siamo con Giovanni Palmulli, Unione Mediterranea. Lei ha un documento? È un documento moderno. Nel 2008 i comitati Due Sicilie fecero apporre una lapide nel forte di Fenestrella per ricordare i nostri soldati. I cari fratelli piemontesi hanno rotto anche la lapide. Ci siamo spartiti i frammenti come se fosse una reliquia. Questo per sensibilizzare la logica delle cose. Chi ha trattato così una lapide immaginiamo cosa ha fatto i nostri soldati che non vollero abbiurare il giuramento a Francesco II. E poi per tornare a quello che ha detto Quartucci, brevemente, la logica. L'Italia chiese un'isola deserta, una landa deserta, addirittura in Patagonia, per esiliare i nostri soldati. Questo dimostra quanti erano questi soldati. Erano un problema grosso che non si sapeva come risolverli. Quindi quando Barbero dice che erano pochi, poche decine, quattro morti, dieci morti, sta dicendo cose molto molto parziali. Non credo che possa aver ragione lui. Stiamo presentando una petizione alla comunità europea per chiedere una commissione che tenga sotto stretto controllo la politica italiana nei confronti dell'Italia del Sud. Perché abbiamo denunciato abusi di ogni genere dal punto di vista ambientale, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico. Quindi chiediamo quello che riteniamo sia un nostro diritto e che l'Unione Europea congede, cioè di vigilare su questo operato perché riteniamo di essere trattati da colonia interna. Anzi stiamo facendo anche una raccolta di firme che si spera di poter far firmare tanta gente, ce ne occorrono 30.000. Dopodomani c'è Pino Aprile, stanza vera, la libreria Ossa Minore. Chi vuol firmare può venire lì e troverà i moduli per la firma. Le ringraziamo per 99TG. A voi studio.